E' letteralmente un'opera d'arte, non c'è altro modo di descriverlo. Adesso dobbiamo replicare questa cosa qua. Per questo dolce ho utilizzato tre ingredienti, idromele, polline e favo crudo. Appartengono tutte e tre al mondo del miele, l'idromele è una bevanta alcolica, si ottiene dalla fermentazione di una soluzione acquosa di miele, poi c'è il polline che è difficile da usare perché ha un sapore amaro e alla fine c'è il favo crudo. Lo sapete cos'è il favo? No, certo. I cassetti esagonali dove stanno le larve e il miele. Ok. Idromele, polline e favo, ne conosco la teoria ma non ho mai avuto la fortuna di maneggiarli. Abbiamo fatto del cremoso al miele, abbiamo fatto una riduzione di aceto di miele con il favo, abbiamo fatto un gelato latte e miele, abbiamo fatto una spugna di polline, delle cialde di miele. Abbiamo fatto per finire pure il gioco della bevanda. È chiaro che non dovete fare il mio dolce. Una sola cosa vi chiedo, dovete utilizzare tutte e tre gli ingredienti killer. Killer perché sono tutte e tre difficili da usare. Idromele, polline e favo. Chiaro? Sì, chef. Io mi sento tranquilla con il dolce. Avete 70 minuti di tempo. 70 minuti a partire da... In 70 minuti ci sarà un momento in cui si girano e io riesco ad andarmi senza che mi vedano? Ora!